Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Buonasera Marche. L'estate ormai è finita, l'auturno è da poco cominciato, ci avviamo verso l'inverno e avviandoci appunto verso la stagione fredda dobbiamo anche occuparci di mantenerci al caldo e quindi occuparci anche di tutte quelle pratiche che riguardano la manutenzione e la revisione periodica della nostra caldaia. Molte sono le novità determinate da una serie di nuove leggi recenti che spesso i consumatori magari possono non conoscere molto bene per capire come determinare, come imparare a gestire la propria caldaia. Questa sera quindi abbiamo deciso di dedicare il nostro appuntamento proprio a questo, a fare luce, a fare chiarezza. Sono in studio per aiutarmi in questo compito in compagnia di Luca Bocchino, buonasera. Buonasera a voi e voi siete spettatori. Responsabile categorie impianti per Confartigianato. Dunque Luca partiamo proprio dall'inizio, abbiamo parlato di alcune novità che riguardano proprio la manutenzione e la revisione delle caldaie. Che cosa è cambiato in questi anni? Beh, innanzitutto dal 2013 è entrata in vigore una nuova norma, in realtà recepisce una direttiva europea su cui siamo stati a livello nazionale un po' lenti nel recepirla, ma che comunque segna un po' un nuovo modo, un nuovo passo di manutenere e comunque essere corretti nella gestione di quelle che sono le caldaie domestiche. Oggi probabilmente è opportuno parlare più che altro di quelle che sono le caldaie domestiche ad uso familiare, quindi quelle che tecnicamente consideriamo inferiore ai 100 kilowatt, che rappresentano poi il 90% delle caldaie presenti sul nostro territorio regionale. Su cui effettivamente, come diceva poco fa, è opportuno fare un po' di chiarezza in più su quelle che sono le corrette abitudini da parte sia dei consumatori, ma anche da parte dei manutentori nelle misure in cui iniziano a effettuare le operazioni di certificazione e verifica delle caldaie. Ecco, volendo fare una differenziazione quando parliamo di manutenzione periodica o di revisione della caldaia, quali sono le differenze? Allora, il DPR 74 recepisce fondamentalmente due grandi momenti legati alla caldaia che noi abbiamo sul balcone, questo sconosciuto. Sicuramente la parte più importante è la prova di efficienza energetica che va fatta periodicamente ogni 4 anni, sempre per le caldaie che hanno una potenza compresa tra i 10 e i 100 kilowatt. Questa tipologia di prova è una prova che viene fatta ogni 4 anni e all'interno della quale, abbinata anche al cosiddetto burrino verde, oggi segno identificativo, questa è la nuova dicitura, vengono fatti dei controlli della prova fumi che contiene sicuramente un'attività di monitoraggio molto più approfondita e molto più completa perché ha l'obiettivo proprio di verificare che l'immissione dei fumi nell'ambiente sia entro dei limiti fissati per norma e quindi garantire che l'aria immessa nelle caldaie sia comunque un'area respirabile. Questo ovviamente è un controllo che si abbina ad una manutenzione periodica e permette di far stare tranquille le famiglie o comunque il proprietario dell'impianto perché comunque viene superata quella che è parametrata un po' alla revisione dell'auto che viene fatta periodicamente. La manutenzione invece ordinaria, che è quella sulla quale poi si concentrano molto di più le attenzioni, le attese e le curiosità da parte anche di noi cittadini perché anche i nostri manutentori sono prima di tutto anche cittadini per questo, è la manutenzione periodica ordinaria che viene fatta per garantire invece la sicurezza della caldaia. È un concetto diverso che forse in passato è stato anche erroneamente abbinato a quello della prova di efficienza energetica ma dove invece il controllo fatto ai fini della sicurezza è un controllo differente. È un controllo che viene fatto sulle nostre caldaie che è finalizzato appunto a verificare la sicurezza stessa sempre per cercare di essere come dire compresi da chi poi non è esperto in questo settore è un po' come quando noi andiamo in vacanza d'estate prima di partire per un lungo viaggio e sottoporre quindi l'auto ad uno stress particolare o impegnativo andiamo a fare quello che è un controllino chiamiamolo così dal nostro autoriparatore di fiducia. La manutenzione ordinaria fatta in questo periodo dell'anno quindi da settembre in poi serve proprio per andare a ripristinare e rivedere che tutte le componenti che servono alla caldaia per produrre l'acqua calda che gira nel circuito dell'impianto di riscaldamento siano effettivamente efficienti che dopo la pausa come dire prolungata dalla primavera fino all'autunno siano componenti che non abbiano subito processi di ossidazione o processi comunque di rovina a causa comunque dell'umidità presente magari che di notte comunque permette di deteriorare la caldaia stessa e questa manutenzione ordinaria è fondamentale senza la quale si corre il rischio veramente di rimettere in moto un impianto senza quello che è il controllo necessario per garantire la sicurezza nei nostri appartamenti. Ecco volendo poi fare chiarezza quali sono i suoi doveri e sui diritti dei consumatori quindi di chi magari appunto ha la caldaia ma anche su chi fa manutenzione sulla caldaia anche qui che differenze ci sono? Cioè il consumatore che cosa è obbligato a fare e anche il manutentore che cosa è tenuto a fare per lavoro? Allora intanto partiamo dagli obblighi che hanno il manutentore nel faro il manutentore per legge al di là di a volte di errori di comprensione o comunque di vecchie abitudini collegate magari anche a normative superate il manutentore ha l'obbligo di comunicare agli enti preposti la frequenza con cui devono essere fatte le manutenzioni della caldaia e delle sue componenti non è una facoltà è un obbligo lo prevede proprio il DPR 74 che ad un articolo ben preciso indica i doveri del manutentore che quindi non può esimersi dal non comunicare quali parti devono essere controllate e con quale frequenza tra l'altro lo deve fare per iscritto e lo deve inviare con dei processi di comunicazione anche formali questo è un obbligo che addirittura è sanzionato con ammende fino a 6.000 euro a carico del manutentore che insieme al consumatore sicuramente sono tra virgolette gli anelli deboli nel senso che comunque non sono soggetti che hanno una dischezionalità per farlo il controllo e la periodicità è un controllo che non è aleatorio questo ci teniamo a dirlo sia noi come categoria ma al tempo stesso anche come consumatori in prima linea non ha un'aleatorietà nel scegliere la periodicità stessa perché le case costruttrici danno già delle indicazioni molto precise su quella che è la temporalità migliore per controllarlo e modificare l'arco temporale di controllo e di manutenzione ordinaria vuol dire assumersi una responsabilità che in caso di incidente o comunque di evento negativo porerebbe a carico sia del committente quindi del cittadino comunque del proprietario della caldaia sia del manutentore delle responsabilità frutto comunque di scelte indipendenti da quello che consiglia chi ha costruito quella caldaia e che conosce molto bene le caratteristiche di quella caldaia stessa questo è l'obbligo del manutentore ecco quindi magari giusto per fare un esempio per capire meglio nell'eventualità che uno dovesse in base a quanto è scritto nel libretto dovesse fare manutenzione ogni anno ma decidesse di magari posticiparla ogni due ecco in quel caso la colpa non sarebbe cioè la colpa diciamo la responsabilità di questo eventuale posticipo non sarebbe solo del manutentore ma anche ovviamente del cliente che ha deciso di rivolgersi a lui diciamo che non è una cosa a senso unico il cliente è messo a conoscenza in maniera molto trasparente di quella che è la periodicità dei controlli perché quando il manutentore si reca presso un'abitazione oltre a sottoporre al cliente tutti i documenti che poi il cliente stesso comunque firma il manutentore ha anche il dovere di spiegare bene al cliente quali sono comunque le temporalità e le procedure e anche le frequenze della manutenzione dell'impianto insieme al cliente diventano come dire corresponsabili di eventuali malfunzionamenti della caldaia dovuti da una mancata osservazione di quelle prescrizioni che vengono congiuntamente sottoscritte e inviate all'ente di verifica ecco concentrandoci invece su quelli sono gli obblighi e i doveri da parte dei cittadini che appunto devono in qualche modo curare i propri impianti e quindi fare manutenzione e anche revisione della caldaia che cosa sono tenuti a fare? allora i cittadini sono tenuti comunque essendo proprietari ultimi dell'impianto stesso e della caldaia ad osservare le norme che sicuramente non sono a volte semplici da comprendere su questi i manutentori hanno già la consapevolezza di dover aiutare i cittadini comunque a comprendere la responsabilità ultima è carico comunque del committente, del conduttore della caldaia del proprietario o del conduttore i cittadini sono sanzionabili se omettono comunque di adempiere a quei controlli che vengono preventivamente indicati e quindi hanno a loro stessi l'obbligo sia di tenere prontamente tutti i documenti a portata di mano perché le verifiche dal 2017 inizieranno insieme ad una campagna informativa fatta unitamente alla collaborazione con la regione Marche ma anche i controlli ispettivi da parte degli enti preposti alle verifiche penso ai comuni, penso alle province che comunque hanno le competenze di verifica stessa possono essere richiesti nei confronti dei cittadini i quali in caso di omessa conservazione dei documenti ne devono rispondere con delle sanzioni che in questo caso vanno dai 500 fino ai 3.000 euro Ecco, volendo invece andare un pochino più nel concreto e quindi parlare di costi perché poi alla fine è un aspetto non marginale abbiamo parlato di sicurezza però in fondo anche magari per evitare che in qualche modo i consumatori subiscano frodi o in qualche modo possono essere informati su quali sono i costi normali per sostenere controlli di questo tipo partiamo dalla manutenzione Parlare di prezzi e di costi di una manutenzione è sempre molto delicato perché si parla comunque di una professionalità e di un mestiere che ha sicuramente un alto valore anche riconosciuto dalla legge quando attribuisce al manutentore l'onere di certificare l'efficienza delle caldaie domestiche però non volendoci comunque sottrarre a delle indicazioni di massima la categoria dei manutentori con fartigianato ha un grandissimo numero di manutentori quindi riesce comunque ad avere un osservatorio privilegiato da questo punto di vista la categoria dei manutentori in condizioni normali standard di una caldaia domestica che non ha particolare complessità e ripeto su questo vogliamo essere molto cauti o evitare di creare comunque disinformazione un prezzo meglio si aggira tra i 70 e gli 80 euro di una manutenzione ordinaria il tempo che serve per fare una buona manutenzione si aggira per la sola parte tecnica va da 30 ai 45 minuti a cui poi bisogna purtroppo aggiungere su questo c'è una burocrazia che sicuramente non ci sta aiutando non sta aiutando né il cittadino né il manutentore si aggiungono dei tempi non secondari per la compilazione di una documentazione a volte molto onerosa e questo serve proprio per garantire sia al cittadino che al manutentore l'effettiva correttezza dei dati compilati per evitare al cittadino di dare incontro a delle sanzioni perché poi sarà il manutentore che invierà con delle procedure molto rigide la documentazione agli antipreposti quindi noi facciamo anche da garanti per i cittadini che le comunicazioni che vengono inviate siano effettivamente destinate agli antipreposti che sono diversi sulla nostra regione anche non sempre facili da individuare per cui comunque da questo punto di vista nell'arco di un'oretta con questo prezzo complessivo è come dire l'indicazione che ci sentiamo di dire su cui trovare il manutentore più adatto per le proprie esigenze e ripeto una cosa molto importante fidatevi di un manutentore di fiducia perché affidandovi ad un manutentore che vi segue costantemente anno dopo anno magari anche con un contratto che vi permette di essere seguiti costantemente senza dover cambiarlo di volta in volta vi permette di mettere la vostra caldaia nelle mani di una persona che la conosce bene e che sa comunque nel corso degli anni tutte quelle che possono essere le complessità o le caratteristiche tecniche della vostra caldaia del vostro impianto domestico Questo per quanto riguarda la manutenzione se invece volessimo fare lo stesso discorso per la revisione? La revisione non è altro che una manutenzione a cui viene aggiunta la cosiddetta prova fumi quindi in questo caso c'è un segno identificativo da porre il famoso bollino verde ormai è noto e conosciuto alla comunità ormai da anni il cui bollino ha un onere di 14 euro al latte raggiuntivo che serve proprio per apporre una vera e propria tassa che viene proposta o inserita dal governo centrale che serve proprio per certificare l'efficienza energetica di quella caldaia Lei prima parlava di una campagna informativa che in qualche modo può aiutare magari anche a gestire queste verifiche perché magari non è detto che un consumatore decida di non fare manutenzione e revisione per risparmiare ma perché forse semplicemente si è dimenticato oltre che il controllo annuale lei giustamente sottolineava c'è neanche uno quadriennale a volte può capitare che ci sfuga semplicemente di vista Assolutamente sì infatti noi abbiamo già chiesto e stiamo come dire a breve iniziando una campagna informativa ma su questo è la Regione Marche che è titolata a farlo infatti noi abbiamo richiesto e aspettiamo che ci sia l'attivazione di questo percorso perché serve una campagna informativa che deve essere unilaterale deve essere comunque armonizzata su tutto il territorio regionale che non lasci spazio comunque a singole iniziative sui territori perché gli enti preposti sono 14 su base regionale quindi avere un unico soggetto che informa in maniera coerente tutti i cittadini della Regione Marche è fondamentale su questo dal 2017 dovrà iniziare questa campagna informativa che sicuramente aiuterà i cittadini a capire meglio gli adempimenti a cui andare incontro questa è un'occasione comunque di campagna informativa infatti ringraziamo ETV e l'emittente per darci questo spazio perché prendiamo in questo ruolo su cui anche voi ci state dando una mano nel colmare questa lacuna che magari molti cittadini potrebbero avere quindi riconosciamo anche questo ruolo sociale che state comunque avendo come sempre d'altronde su questo aspetto molto delicato che è quello delle caldaie domestiche Beh, grazie a voi per essere stati qui con noi questa sera per averci un po' fatto luce e averci aiutato a fare un po' chiarezza anche per chi ci sta guardando da casa su quali sono le differenze anche in base a queste leggi di cui abbiamo parlato ad inizio puntata e soprattutto su quali sono gli obblighi e i doveri non solo da parte del consumatore ma anche da parte del manutentore Un'ultima domanda prima di salutarci abbiamo parlato di impianti in generale ma nell'eventualità che ci siano impianti molto vecchi ci sono delle manutenzioni in più da fare delle differenze oppure no? Allora, gli impianti molto vecchi molto spesso possono avere bisogno di una manutenzione come dire, molto più approfondita anche perché gli impianti molto vecchi potrebbero avere anche delle componenti che molto più facilmente si possono rompere non voglio dire di sostituire l'impianto con uno nuovo perché mi rendo conto che questo è un momento molto delicato anche per il nostro socio-economico sicuramente la nuova legge regionale quella del 19 del 2015 da questo punto di vista mette dei limiti molto stringenti alle verifiche e controlli quindi molto spesso i manutentori non possono anche tollerare la messa in funzione di impianti le cui componenti possono essere molto deteriorate chi ha un impianto molto vecchio deve essere consapevole che va incontro a dei rischi sicuramente per la propria sicurezza ma sicuramente al fatto che poi dopo essendo la responsabilità amministrativa e anche penale in capo al manutentore non possono essere lasciate in funzione impianti che potrebbero non garantire la sicurezza dei condomini o degli abitanti stessi di quell'abitazione Ecco abbiamo detto che questa è una puntata dedicata appunto a fare chiarezza per i consumatori ci sono magari anche altri aspetti che solitamente vi vengono chiesti domande anche frequenti che magari potremmo in qualche modo trattare ancora? Assolutamente sì la problematica molto spesso riguarda non soltanto la caldaia stessa ma l'intero impianto di funzionamento perché la caldaia è una componente dell'intero impianto e molto spesso i cittadini si trovano ad avere problemi anche nel capire il corretto funzionamento non solo della caldaia ma dell'impianto stesso in cui fa parte l'invito è quello fidatevi di manutentori e impiantisti che hanno la vostra fiducia o nei confronti dei quali riconoscete una professionalità come dire indiscussa nel senso che molto spesso i nostri impiantatori sono artigiani che lavorano con il cuore lavorano con passione lavorano sul territorio ci mettono una faccia in prima persona sicuramente come tutte le categorie e le facce sociali ci possono essere persone più o meno preparate noi come confartigianato lavoriamo molto sulla formazione ogni anno facciamo dai 5 ai 10 seminari tecnici informativi finalizzati proprio a mantenere alti gli standard qualitativi dei nostri manutentori quindi lavoriamo per la collettività affinché i nostri manutentori siano pronti e capaci a rispondere a tutte le esigenze che da parte della comunità dovessero venire fuori è ovvio che l'invito è sempre avere un rapporto molto forte e molto stringente con il proprio artigiano di fiducia Manutenzione e revisione della caldaia questo è l'argomento di cui abbiamo parlato questa sera Buonasera Marche Molte le differenze che ci ha spiegato il nostro ospite studio Luca Bocchino e che ringrazio il responsabile della categoria impianti per confartigianato abbiamo visto una questione non solo di sicurezza dell'impianto ma anche proprio di sicurezza per le persone quindi vi invitiamo a prendervi cura della vostra caldaia a seguire tutte le dovute precazioni soprattutto a fare revisione e manutenzione come ci ha spiegato questa sera il nostro ospite anche per questa sera il nostro tempo a disposizione è scaduto a me quindi non resta che salutarvi e augurarvi un buon proseguimento di serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti